20 giugno, guardate cosa ho di fronte, la casetta, io darei un anticipo dell'eremita Aldo, ma guardate qui la casetta, ma che zona mi trovo e sottostante c'è un torrente, quest'acqua è deviata dal fiume Adda, sì, ma guardate dove mi trovo in questo momento, la casetta qua, bella, 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 col balconcino, sono qua, Castello dell'Acqua, si è denominata così questa località e per di più vi dico specificamente la zona, zona Baghetto, e ma guardate qui le montagne intorno della Valtellina, la di fronte ho la località denominata Castionetto, vedete la di fronte e poi si va oltre di là c'è la Val Fontana, sono qua in questa pista ciclabile, per poco stavo andando sotto una bicicletta perché sono talmente emozionato a fare i video che la mia abitudine di essere un youtuber continua nell'ingrandire lo spettatore, la visione ottica di questa valle che io mi trovo tutt'ora, la Valtellina è provincia di Sondrio, ma guardate qua la località Baghetto, e intanto saluto gli amici qui circostanti che io mi trovo qui nella zona, eccolo là di fronte a me, sottostante il paese denominato Chiuro, Chiuro, sto andando alla stazione esattamente di Chiuro, Aldo. Ecco un attimo di silenzio per meditare dove io sono e sottoscritto ho potuto vedere la mia immagine attraverso per fare la cosa credibile, altrimenti gli ascoltatori non ci credono che io ogni giorno salto da una valle all'altra, da una zona all'altra dove il mio io mi porta a essere un viandante, un girovago, devo dire più che altro Eremita, mi piace girovagare la Valtellina, soprattutto anche le valli di Acenti a questa località denominata Chiuro, sono qua nella zona Baghetto, è una piccola frazione che appartiene a Castello dell'Acqua, denominato così questo paese, perché è un paese, si può dire a pezzi spopolato e popolato, di gente dove l'umanità sa dare un valore positivo al viandante, la gente chiama chi vi abita qui sa ospitare il viandante. Ecco la mia ultima visione bellissima del ponte Adda, Adda, del fiume Adda, sto per arrivare a vedere l'Adda, oggi è una giornata né bella né brutta, però non è neanche nuvolosa, ecco qua la visione ottica del fiume Adda, poi chiudo questo YouTube per non stuffare i miei ascoltatori, ma guardate che bello, adesso vado su quel ponte là e 8 minuti sono arrivato alla stazione dove io ho il treno che mi porta a Sondrio, poi Milano, fiume Adda, Adda.